con alessandro scandola siamo sempre alle vante prof siamo nel mondo dei forni e parliamo di pizza master questa azienda che evidentemente è all'avanguardia in questo settore pizza master è l'azienda al mondo con la più ampia gamma di produzione di forni a piani elettrici abbiamo più di 85 modelli e più di 1500 combinazioni siamo presenti in 150 paesi nel mondo e siamo qui a levante prof che abbiamo il nostro distributore per il sud italia che c'è di alvitoblasi rappresentiamo l'azienda siamo qui con una piccola gamma dei nostri forni abbiamo forni da 1 a 5 camere la caratteristica è quella di avere performance molto alte con i forni molto potenti che consumano molto poco e sono in grado di cuocere qualsiasi tipo di prodotto pizza sicuramente ma in realtà poi fanno anche tutti gli altri prodotti abbiamo una consistenza di cottura abbiamo tantissime particolarità quale può essere la porta basculante verso l'alto vetri aperti in tutte le camere doppia luce piani estraibili quindi i forni sono molto famosi molto conosciuti abbiamo tantissimi clienti fortunatamente qua in zona la puglia è un territorio che per quanto riguarda la pizza la panificazione offre una ampissima gamba di prodotti di produzione che da pizze focacce e ce ne sono tantissimi prodotti e tutti possono andare benissimo con il forno sono semplici da utilizzare quello che i nostri clienti ci riconoscono è l'affidabilità perché nell'arco degli anni non sono mai rimasti a piedi è un forno molto semplice anche dal punto di vista della programmazione che gestisce le quattro cose fondamentali che deve gestire nella cottura che sono temperatura distribuzione del calore e il tempo e il tempo di cottura abbiamo diversi tipi di pietre possiamo cuocere su pietra refrattaria normale possiamo cuocere su pietra chiamata cosiddetto biscotto di sorrento o pietra napoletana che per fare pizze ad altissima temperatura anche in un forno elettrico abbiamo tantissimi modelli di forme bisogna andare dal fornetto per cuocere la pizza singola a casa 220 monofase fino al forno a cinque camere per poter cuocere qualcosa come 100 200 teglie al giorno anche più di 600 pizze alla volta la gamma è molto ampia l'abbiamo capito c'è davvero un mondo che riguarda tutto il settore forni penso che l'assistenza sia anche un vostro punto forte quindi disponibili sempre fondamentale non vendiamo un forno se dove stiamo vendendo il forno non abbiamo il service e l'assistenza fabrizio jacovella per parlare di scrocchiarella fa anche rima ci sta bene eccoci la scrocchiarella la fata padrone qui in puglia stiamo al nostro stand e ne stiamo producendo tanta la particolarità di scrocchiarella è questa leggerezza fragranza e digeribilità che è data dal nostro lievito madre naturale siamo un'azienda che produce lievito madre naturale da tantissimi anni e la mettiamo nei nostri prodotti e semi lavorati e scrocchiarella è la massima espressione quindi del nostro lievito naturale giusto per intenderci un po' richiama una pizza un po' più come dire più più fragrante sì è una pizza che è fragrante leggerissima si scioglie in bocca e dà la possibilità di di renderla unica ad ogni operatore perché la può farcire come vuole ce l'abbiamo in diversi tipi di cereali quindi partiamo dal grano da nero zero ha una multi cereali rustica riso venere qui in puglia va tanto anche la grano duro e quindi lasciamo diciamo la 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 parte finale agli operatori che con loro estro la la completano con le farciture più particolari il mercato cerca queste novità diciamo no il mercato cerca queste novità ma soprattutto il mercato cerca un prodotto veloce furbo pratico eh oggi soprattutto con la carenza di personale che c'è la scrocchiarella frozen è l'alternativa dal congelatore direttamente in forno in pochi minuti è pronta bisogna dedicarsi solamente a quello che mettiamo sopra quindi richiedete la scrocchiarella a noi non resta che assaggiarla però fabrizio e l'assaggerete a noi non resta che assaggiarla